Buon benedetto, buon benedetto, io sono benvenuto nel programma Cambiando Ava di Mbia. Buon benedetto, mi sono invitato con me, mi sono conto con me, pastora Emily Adams, è il pastor di Kids Church Ministry di Gesù Mianovo, tu sai che mi chiede di un buon benedetto nel programma, Emily, buon benedetto. Grazie a tutti per permettere che non vediamo più. E' il buon benedetto, buon benedetto, buon benedetto, buon benedetto. Mi chiedevi se c'è un po' di notazione, guardare un pen e un papel, percibare tutte le informazioni di noi. molto probabilmente, questo è stato grabato in due parti, per il motivo che il tempo è riporto, quindi se non c'è l'aria, c'è l'aria un'altra settimana, per esempio è un tema un po' lungo, ma io voglio edificare la vita. Ora, io comincio a explico un rato, l'ansiedad, che c'è l'ansiedad e che c'è l'ansiedad. L'ansiedad è stato mental che ti guardo caratterizzare per una grande inquietud, un sentimento intenso e insegurità extrema. Sentimento di miedo e inquietud, una persona che sta vivendo con il pensamento, che qualcosa di malo passa con lui. L'ansiedad è stato un attacco di momento, di momento è stato inquieto, è stato tranquillo, è stato sentito molto insieme, e è stato vivendo con il temore del pensamento, che qualcosa di malo passa con lui, mentre in realtà è stato un attacco di malo, ma l'ansiedad è stato un attacco di una forma di pensare e è stato affettato. L'ansiedad è stato mental che ti guardo caratterizzare per una grande inquietud, un sentimento intenso e di insegurità extrema, sentimento di miedo e inquietud, una persona che sta vivendo con il pensamento che qualcosa di malo passa con lui. L'ansiedad è stato un attacco di viaggio per il sintomo fisico, perché in realtà è stato un attacco di un sintomo fisico, e in realtà è stato un attacco di un sintomo fisico, perché in realtà è stato un attacco di un sintomo fisico, e paràlicisi. quindi l'ansiedad è stato sintomo fisico, perché in realtà la gente che soffre di ansiedad, perché la mente è stato un attacco di disordine, e non può mettere costa nel luogo, e l'ansiedad è stato fatto di tala maniera, perché in realtà è stato un attacco di rimpi, perché in realtà è stato un attacco di riscaldanza, perché in realtà è stato un attacco di un sintomo fisico. E mi chiede un rato di stress, ma so che sta bene accompagnare con il stress, ma il stress si tratta di una maniera un po' differente. Il stress sta bene ora di accumulare problemi e preoccupazioni. Il stress sta bene ora di sobrecargare. Demasiado responsabilità, ma di quello che posso mangiare. Il stress sta bene qualcosa che sta bene riportando la vita, ora di overworked, ma di demasiado costa, ma di preoccupare, ma di debito, ma di un po' di controllo, ma di problemi del matrimoniale, di tipo di problemi, ma di accumulazione di problemi, di responsabilità, ma di stress è il stress. Il stress è il sintomo fisico, come ti stai menzionando. Tensione del muscolo, tensione del lomba, dolore di cabeza, problema padromi, problema con cuore, ansiedad, tristeza, depresione. Adesso mi vuoi explicare qualcosa. c'è qualcosa di importante per noi comprendere. Il stress sta bene ora di un punto, che quando si riscenti che ci si servono, che si sanno spesso, è stato apprezzato, in un mondo spiritual, un attacchio spiritual. Il stress sta bene di accumulazione di problemi, di responsabilità, come non si potremmo mangiare, La parola di Dio è una cosa interessante e una cosa che noi stiamo a conto. Non preoccupare per nulla, ma in ogni circunstanza presentare la sua peticione a Dio, ma in ogni circunstanza presentare la sua peticione a Dio e 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 la sua peticione a Dio. E la loro fama è una cosa interessante e la sua peticione a Dio 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 e la sua peticione a Dio. un ticchi mas, però non stico mai un corte comercial in nostro bag de un minuto. Ah ah, overheating is not an option, basta visitare Radiator Solutions e experto un problema di Radiator per tutta l'auto, dove il professionalismo e i tools necessari per solucionare un buon problema mesura. Non l'agga ai sacchi passabili, Radiator Solutions and more. Scriviti al nostro canale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.